Oio non c'è Omrio Ciao a tutti i spistobles Benzo, il double Allora, Plutone FD? No! No vabbè E' pieno Plutone GD No! Ha messo ancora a caricare Oh ii, docro Come? Two hours later Nates Mi hanno occupato pure una King Pensate Dove sono questi maledetti Razza Ma come son morto? Ma come son morto? Questo è un shooter comunque Si vabbè No 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 Non No 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 in mezzo al fumo, ho ucciso uno in mezzo al fumo questo qua mi banna, questo mi banna ma fao, ma fao ma come ho ucciso a me? come? poi ci voleva l'assaltatore mi ha ucciso avvio dove? come? quando? perché? arrivo arrivo arriva sta cazzo tua? cazzo nooo cazzo è un in quattro, vabbè è impossibile per me facciamo un ucciso che cazzo è un ucciso grazie fratello cazzo è un ucciso il cuore questo qua, con sta mediatrice ha rotto il cazzo Dai cazzo, dai cazzo, non mi spona la cazzo, c'ho già nulla, dai I snurzoguugnaffa Astrofi A Napoli Sempre Ragazzi, grazie di aver visto questo video Questo è un gioco di me Viva il No